Sono eliminati a recriminare? No, no, che caccio ci stanno queste cose. Basta, secondo me ha condizionato un po' tutto il secondo tempo l'arbitro. Si è fatto un po' prendere da... non so da che, perché era una partita tranquilla, quindi... Niente, niente, secondo me è stata condizionata molto nel secondo tempo questa partita. Anzi, l'episodio ha visto una... No, noi il primo tempo non l'abbiamo fatto bene. Però eravamo andati in vantaggio uguale, ma il secondo tempo in dieci, l'espulsione loro, stavamo un attimino a controllare la partita. Poi l'arbitro ha condizionato, secondo me, ha condizionato tutto il secondo tempo. Domenica con i Rieti che partita sarà? Una partita sicuramente importante e che dobbiamo assolutamente, a questo punto dobbiamo cercare di fare risultato pieno. Sì, molto importante, perché chiaramente prima della partita magari non pensavamo di portarlo via. Insomma, la cosa che mi fa felice è che è stato un punto meritatissimo. Direi che ce lo siamo guadagnato con le armi che avevamo, con tante difficoltà. Siamo così riusciti a stare corti, a stare sempre in partita. Abbiamo sfruttato quello che poi poteva essere, c'è un'occasione. Ma al di là di questo, insomma, siamo stati in campo e penso che la differenza tra noi e loro oggi non si è vista.